Vettori e con la visione periferica se ne è accorto Leal. 13-10 con Diamantini al servizio, lo piazza verso Petrice, Michael Christensen serve Vettori, l'attacco di Vettori, che grande muro, che grande muro di Civitanova, 14-10 e c'è il 4 match point per la squadra di Fefe. Eh l'ha preso bene, sbrazia ed entra subito con quelle mani, mamma mia quanto ha saltato, oh mamma mia. E' entrato dentro Leal con quelle mani, uno contro uno con la palla, dentro il tunnel di Leal, Vettori non può uscire. 4 match point Diamantini serve verso Carlice, l'attacco di Vettori, il muro vincente da parte del doppio muro, uno dietro l'altro e con un 15-10 con 5 punti di vantaggio, la formazione di Fefe e Giorgi si prende, due punti preziosi e sale in classifica a quota 43, l'inseguimento di Perugia. Rivediamo l'ultima azione con il grande muro, doppio muro per la formazione di Civitanova, che trova così la sedicesima vittoria di questa stagione. Noi ringraziamo Fabio Crisavi per la regia, non c'è il tempo neanche di fare i commenti, ci diamo appuntamento domani a Perugia alle 18 per Perugia-Milano. Ciao da Maurizio Colantoni. Ciao. L'appetito chiama? Deliveroo risponde! Ordina i piatti che ami dai tuoi ristoranti preferiti, te li consegniamo dove vuoi in circa 30 minuti. E se sei un nuovo cliente, hai 14 giorni di consegne gratis. Scarica l'app! Vai pianino caro, che qui c'è un tornante ripido, ripido! Ora mormidino a destra. Ecco, bravo! Dopo ti compro un gelato. Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, Segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it, trova la compagnia giusta! E su Segugio.it potete vincere anche 1000 euro al giorno in buone carburante! La musica è sogno, è magia, è aria su cui volare. Ogni nota è talento, tecnica, passione. Ogni nota commuove, sorprende, ispira. Rai 5, Rai Radio 3 e Rai Play portano il meglio della grande musica a casa vostra.